La stagione delle bocce non collima con quella annuale. A fine settembre si chiude, ma i punteggi per stabilire promozioni e retrocessioni vengono basati sulle gare che hanno termine entro il 31 luglio. Quindi le ultime finali, prima della partenza delle promozionali d'agosto, che si sono giocate venerdì a Suna e sabato ad Oltre Fiume di Baveno, hanno costituito il rendering finale. In parole povere, il comitato del VCO ha già deciso tali movimenti, che servono anche a rimodellare i trasferimenti da una società all'altra e da un comitato all'altro. Diamo subito promozioni dalla B alla A e retrocessioni dalla A alla B. Salgono in categoria A Giorgio Minghini, Giorgio Garzoli e Sergio Bordini, che tornerà a giocare in coppia col fratello Gianfranco. Scendono in categoria B alcuni per scelta Marco Legnazzi, Mauro Aralossi, Gilberto Ron, Walter Fantoli, Ugo Iossi e l'ex campione del mondo Antonio Riva, che però tornerà ad iscriversi in categoria A. A Suna di Verbagna, sui campi in terra della frazione verbanese, direttore di gara Marco Albertini, ha avuto la meglio Arturo Bergamaschi della Cannobiese, che ha battuto in finale Silvio Massera della Bocciofila Possaccio, terzo e della stessa società Francesco Raimondi, quarto della Bocciofila Renese Pierluigi Zarini. Per certi versi più performante, almeno per la quantità dei partecipanti, se non forse anche per la loro qualità e provenienza da oltre confine provinciale, la gara di Oltrefiume di Baveno, l'individuale intitolata per l'ottava volta allo scomparso campione Sergio Barchi, con direttore di gara Gianluigi Genovesi. L'ha alla fine spuntata senza troppe sofferenze il verbanese Valerio Colombo, nel tempo libero cantante di coro, il cui fratello ha recentemente esordito come corista professionista all'Arena di Verona, che dopo aver battuto, si fa per dire, nella quarta partita della gara, il compagno di squadra Simone Albini, ed aver eliminato nella quinta partita un altro collega, ma di categoria B, il sempre valido Giorgio Minghini, ha poi eliminato in finale Gaetano Ielpo, che ha tenuto alti i colori della Bocciofila di casa, la Bolongaro. Al quarto posto, sconfitto in semifinale, proprio da Ielpo, si è posizionato Francesco Raimondi, che come abbiamo visto prima, era andato nei quattro finalisti anche a Suna. Quindi è stato due volte nei premi, come si suol dire, in meno di 24 ore. Commovente, al momento delle premiazioni, il ricordo dello scomparso campione Sergio Barchi, da parte del primo chef di cucina delle isole Borromee, l'ormai mitico Diego Pioletti, che pure ha partecipato, senza fortuna, alle gare finali, e di certo con maggiore slancio alla grigliata susseguente, preparata dal collega del ristorante annesso al circolo di Oltrefiume. Nel frattempo sono cominciate le promozionali. Si gioca a Vedasco, interna, la finale, il 10 agosto, a Doleggio e alla Verta in individuale, mentre a Veruno si gioca una gara di coppia, con estrazione dei compagni ed avversari, sera per sera.